Lei è Miss Barahonda Butterfly by Adriano Ferro Vorrei al mio fianco, dobbiamo chiamare giusto, quindi vorrei Armando, Adriano che sono io e Sandra Shaw e anche Cancredi, tutto lo staff del Barahonda Mettetevi di lato, vince il premio fuori concorso per la partecipazione e la collaborazione per i prossimi 12 mesi al Barahonda Club, Miss Barahonda Butterfly 2022 la numero 7, Bianca! Bianca! Número 7 La prima Miss, questa è la giornata Soli suoi gioielli vagano in un appartamento Vogliamo fare un applauso a Miss Bianca Ovviamente ci sono dei premi per te Questo è un premio fuori concorso Viene decretato dal Barahonda Staff Riprendi nuovamente posto E ora entriamo nel vivo, proprio nel vivo Vogliamo fare un grandissimo applauso! Morello Vorrei al mio fianco Per quanto riguarda la Francia Laura Laura Perriera Scusate se ne fanno male Vai a Sandra Vorrei per quanto riguarda Il premio Fiori Camilla La Caliente Prego Camilla Muoviti Te l'avevo detto che dovete magrire Bella Per quanto riguarda La premazione della Corona Per la terza classificata Miss Body Talika Per la premazione della Corona Per quanto riguarda La premazione dei regali Che spettano di diritto Alla terza classificata Miss Body Augusto Cina Augusto Jean Caro Fiery Hair Designer Siete tutti pronti Ragazze che dovete premiare Siete tutte pronte Quante emozioni Adriano Siete tutti pronti Vice Con ben 239 morti Accogliamola Con un grande applauso Lei arriva dall'Italia E la bellezza Della numero 3 Veronica Veronica Siete tutti pronti Ho sbagliato Ho sbagliato di alleggere La numero 2 Veronica comunque Fatti premiare Puoi dirlo la verità Che ho sbagliato a scriverlo io Per difendere te Lo piglio nel culo Sempre io Va bene Allora Premiamo La numero 2 Veronica Foto di Lito Ragazzi Vogliamo fare un grande applauso Alla numero La classificata Numero 3 Nonché Miss Padin Numero 2 Veronica Lei che hai vinto Una corona di Cristallo E Swarovski La fascia By Piccolo Magazine TV 2 Vai E' un grande applauso Alla terza classificata Miss Body È l'unica Ma tu eri troppo emozionata Io non capisco Ma devi dire qualcosa Sono emozionatissima Grazie a tutti Grazie Io vorrei Al mio fianco Per decretare La seconda Classificata Susi Ellen Lima Per quanto riguarda La fascia La Miss Transestate Italia 2022 Per quanto riguarda Il premio Fiori La Lulu Lulù 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 Applauso Siete venuti solo per bere? Per quanto riguarda La premiazione Della corona Vorrei Victoria Fernandez Mister 12 2021 Per quanto riguarda La premiazione Dei regali Per la seconda Classificata Melissa D'Ungra Melissa D'Ungra Applauso Applauso Dice Il secondo premio Nonché Miss Eleganza Di Miss Butterfly 2022 Con bene La somma Nella giuria Gold La giuria Onore E la giuria Popolare Di bene 243 voti La numero 10 E lei E lei E lei Iris La faccio La faccio Quanta emozione Adriano Amore Io non ce la faccio più Sono poco vecchia Sono proprio Rottame Che devo dire io Con 52 anni Che devo dire Che la Cinzia Luce Mi ha rubato Un appartamento Dai ragazzi Facciamo un applauso I premi Per la seconda Classificata La numero 10 Iris Ah ma attenta Con la corona Facciamo le foto Di lito Iris Oh ragazzi Mi fanno sentire Dai Dai Su Con Diadema In diamante Un grandissimo applauso Alla seconda Classificata Di Miss Butterfly 2022 Oh ragazzi Non mi fate sentire Facciamo un applauso Alle vincitrici Allora Passiamo a abbassare Un po' il volume Queste ragazze Si sono messe In gioco Queste ragazze A differenza Di questo parterre Gold Sono all'inizio Bisogna avere Il rispetto Come mi è stato detto Da una donna Intelligentissima Di una bellezza Esagerata Che mi ha detto Una frase Molto intelligente All'inizio Si è all'inizio Ma la scala Non finisce mai Di essere percorsa Detto ciò Cosa posso dire Che si comincia Dal primo gradino E non c'è Una fine Di un gradino Detto ciò Dobbiamo avere rispetto Dobbiamo avere educazione Dobbiamo avere la capacità Di approvire Queste fanciulle Che hanno avuto Usate l'espressione Le palle Le palle Di partecipare A Miss E io posso solo dire E ci siamo Decrediamo La prima classificata La prima classificata Stefanie Allora Io posso dire Che è stato un piacere Anche per me È stato Tu lo sai quanto io ti amo Lo so anche io Lo sai del cuore Il condividere questo momento speciale Per la prima volta A Barahonda Per me Sarà eterno Bravo Come voi sapete Non so se si capisce Io sono gay Di conseguenza Io amo Queste donne Io amo La loro eleganza Io amo La loro capacità Di mettersi in gioco Anche quella stronza Di Lola Blanche Spero lasciamo una stare Detto ciò Un applauso Alla giuria D'onore Alla giuria A Stefanie De Castro A Sandra Show All'inizio Ad Armando A Tancredi E soprattutto A tutti voi Grazie Adesso abbiamo anche una sorpresa Che sorpresa è? No perché con i tempi che corrono La sorpresa non va bene No no Abbiamo per le premiazioni I ospiti Alla sorpresa Ho appena saputo Sì La Miss Ecco Per la Miss Miss Sì In carica È È pronta È pronta È pronta Alla Non lo sapevo Prima di premiare La Italia Un saluto Un saluto La conto aci un po' di te Ciao ragazzi Mi sta divertendo No Where are you from? I'm from the Philippines The Philippines Where you live in Milano Da quanto tempo? Nine years Nove anni In Italia Nove anni Sei pronto? Sei pronto? Allora vogliamo sentire la voce di questa ragazza Pensate che non mi era mai stato detto Che canta come ora vedrete Ci sei? Dice Miss Butterfly 2021 Crista Allia Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Miss Butterfly 2021. Grazie a tutti. Io vorrei, per decretare la prima classificata, ragazze, vorrei... Per quanto riguarda la fascia Fabiana Alves. Passo a parola a Fabiana Alves. Per quanto riguarda il premio Fiori, Jennifer Cam! Jennifer Cam! Per quanto riguarda... Per quanto riguarda la corona, ovviamente... questo premio... viene donato... da piccolo... da piccolo... your name is... your name is... Raffaella... è una bambola... per quanto riguarda... è una bambola... è una bambola... per quanto riguarda... è una bambola... è una bambola... è una bambola... è una bambola... adriano... adriano... prendiamo... una persona che ha nascosta... eccoci... te... secondo te... chi ha vinto? io... numero 3... secondo te chi ha vinto? numero 3 non mi posso sbilanciare ti puoi sbilanciare? io mi sbilancio dal quinto piano e azzecco sempre il buco non lo so, dai a chi chiediamo? vieni qua Lulù secondo te nascondo chi ha vinto? secondo te chi ha vinto il numero? sono un po' indecisa ma possono aver vinto anche quelle che hanno già più vinto ma non rompere coglione, dammi un numero o la 1, di nuovo Veronica bravo secondo lei chi ha vinto? io la numero 2 secondo lei chi ha vinto? la 2 la 2 la 2 ma la 2 chi è? ah è la Veronica allora vieni qua vicino a me siete pronte? siete pronte? siete pronte? dopo ben 13 anni siamo ancora qua prima era prima era New Eden International da 4 anni in Baronda Club assieme al mio socio Armando vorrei ringraziare Stefanie De Castro che mi ha aiutato che una meraviglia che una meraviglia con me siete cariche facciamo un po' di saspan secondo lei che è un'artista di fama internazionale nonché organizzatrice di grandi eventi rimane rimane non vorrei non vorrei non vorrei dire fai fare una io rivoluziono in questi stanni in questi stanni mi rivoluziono sempre perché è una creatura che ho creato che ho inventato e che mi ha fatto in questi 13 anni con me ci siamo siete pronti? siete pronti? 277 voti tra la giuria d'onore la giuria popolare e la giuria gold vince la tredicesima edizione di Miss Butterfly 2022 la numero 7 pianta l'escriviti l'escriviti Quando i talki a fai e vai Rai a pezzi E vai per ora 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 Bianca Quante emociioni La donna va qui Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!